La storia è consecutiva per una formazione che sta crescendo e sta andando decisamente nella zona play-off, ma all'ultimo il Bari acciuffa proprio il pareggio grazie a un'autorete incredibile, come ci mostra Emiliano Cirillo. Nel Bari conferme per Di Noia e Don Corro schierati dal primo minuto, Puskas preferito a Maniero. Novara con Nicolás Vione in regia, rientra in avanti Galapino, bisacrificato e evacuo, arbitra Ripa di Nocera inferiore. Pronti via, un rimpallo favorisce Tröst che calcia, guarda, si rifugia in calcio d'angolo. Puskas in evidenza, innesca Rosina da posizione defilata, conclude Sfera che scheggia il palo esterno. E' un buon momento per il Bari. Insistita e rabbiosa iniziativa di Don Corro, pallone per Sansone frustata, schermata dalla sagoma di un difensore. Minuto 21, su azione d'angolo il Novara gioca al Torello con la testa, Galapinov costruisce, Tröst indirizza Faragò, mette nel sacco con la difesa del Bari, schierata in modalità relax. Novara in vantaggio e la via aerea del gol festeggiano i piemontesi la rete arrivata dall'alto. C'è comunque la reattività del Bari sul finire che è tutto in questo innocuo colpo di testa di Del Grosso. Le immagini montate da Alessandro Calabrese ci portano alla ripresa Bari con più motivazioni. Nicola aumenta subito il potenziale offensivo con De Luca al posto del centrocampista greco Gensotto. I pugliesi hanno più intensità, dentro anche Maniero che colpisce di testa, pallone al lato. Poi c'è qualche richiamo tattico di Baroni ai suoi. E' un disperato assalto finale quello del Bari. Maniero di testa tutto solo, non c'entra la porta da posizione favorevole. Insiste la squadra di Nicola, ci provano anche i difensori di Cesare, esplode il sinistro senza esito. Il Novara ha quindi più spazi per offendere e Guarna deve mettercela tutta per respingere su Rodriguez, lanciato a rete. Nicola non è assolutamente convinto, scuote la testa, ultimi fuochi. De Luca fa tutto lui, getta un pallone in area, Faraoni è sfortunato nell'impatto e infila la propria porta uno a uno. E' l'altro gol che fa disperare il Novara ed esultare i pugliesi. Il Bari sicuramente non ha brillato ma ci ha creduto fino alla fine. Peccato per il Novara. A Bari arriva il pareggio dopo tre vittorie consecutive. Entra De Luca e il Bari si trasforma. Fa impazzire la difesa del Novara e lui il migliore in campo. Al San Nicola, Bari e Novara hanno pareggiato uno a uno. Linea Roma. La tua votazione qual è Vincenzo? Sei e mezzo, se vuoi. Sì, ma dico perché quel mezzo punto è più? Perché è meglio, è una partita superiore a quella che ha preso sei prima. Direi che un Bari che stenta un po', ha creato un buon'occasione però stenta un po' in casa, deve cercare di vincere le partite perché deve lottare per la Serie A. Premesso che il Novara è una squadra che sta crescendo di partita in partita, ma che succede, come diceva Vincenzo, al Bari e alla San Nicola? Sembra quasi che abbia il mal di casa. No, gli avversari hanno capito cosa fare. Ti aspettano tutti nella propria tre quarti, fanno densità, molto spesso li giocano una difesa a cinque e quindi diventa tutto molto più difficile. Anche perché il Bari ha giocatori molto rapidi davanti e quindi se tu fai densità li metti in difficoltà e nelle palle alte hai sempre il vantaggio, chi si difende ha sempre il vantaggio. Oltretutto vi ricordo che martedì tre...